e se ti dicessi che un software che prima era a pagamento è stato appena aggiornato nella versione 2025 ed è diventato gratuito ma non basta è il software più completo in assoluto per la manutenzione del pc e funziona in maniera semplicissima con solo pochi clic che cosa mi potresti rispondere se non che sei già pronto e allora se sei pronto iniziamo e cominciamo proprio con un bel rituale apotropaico che ci serve a tenere a bada le divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va quella che voglio presentarti oggi è una vera chicca infatti si tratta del miglior software in assoluto per la manutenzione del tuo pc windows 10 o windows 11 nel 2025 ma come ci avevi presentato tanti software in passato ti eri entusiasmato per ciascuno di questi e adesso ce ne proponi un altro ebbene sì e a ragion veduta perché devi sapere che date le profonde trasformazioni che hanno subito con gli ultimi aggiornamenti i nostri sistemi operativi la maggior parte di questi software non è più in grado di fare un lavoro equiparabile a quello che fa questo qui che sto per presentarti e allora non perdiamo tempo apriamo subito il nostro browser e nel motore di ricerca andiamo a digitare come sempre gentiluomo digitale ok effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomo digitale punto it apriamo il nostro sito e portiamoci subito qui in alto nella sezione che si chiama downloads una volta aperta la pagina scendiamo un po più in basso fino ad individuare questo download qui quello che si chiama win optimizer 2025 possiamo fare clic sul pulsante file download per andare a scaricarlo ma nel caso in cui non riuscissimo a trovarlo ci basterà portarci qui in alto su questa lente di ricerca cliccarci su e digitare al suo interno win optimizer effettuiamo la nostra ricerca e vedrai che in pochi secondi win optimizer ti comparirà basterà fare un clic sul nome del programma per andare a scaricarlo il download non sarà particolarmente lungo dato che il file misura solamente pochi mega una volta che sarà arrivato sul nostro computer ci basterà fare clic qui in alto su questa iconcina qui per andare ad aprire la cartella compressa che lo contiene a questo punto potremo anche chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più nella cartella dei download faremo doppio clic sul file win optimizer 2025 44571.zip che aprirà la cartella compressa e a questo punto faremo nuovamente doppio clic sull'unico file presente al suo interno per lanciare il programma di installazione confermiamo cliccando su esegui di voler eseguire il software di installazione ed anche con sì di voler apportare le opportune modifiche al nostro dispositivo ci troveremo a questo punto di fronte alla schermata di installazione di win optimizer 2025 e per procedere cliccheremo su questo pulsante qui quello che si chiama accetto e procedo nella schermata successiva lasceremo tutto quanto esattamente come si trova e cliccheremo sul pulsante avanti partirà l'installazione di win optimizer 2025 che come vedi si concluderà in pochi secondi e creerà automaticamente l'icona del programma sul nostro desktop clicchiamo sul pulsante fine lasciando spuntata la voce avvia a shampoo optimizer 2025 e si avvierà automaticamente il nostro programma potremo chiudere la finestra del browser che si aprirà e a questo punto dovremo effettuare la nostra registrazione per registrarci dovremo digitare all'interno di questa casella il nostro indirizzo email fatto questo cliccheremo sul pulsante avanti e ci verrà richiesto di inserire una nostra password per l'account la password dovrà essere lunga almeno otto caratteri e contenere lettere maiuscole lettere minuscole almeno un numero ed un carattere speciale una volta digitata alla password clicchiamo sul pulsante avanti e riceveremo un link presso l'email che abbiamo appena fornito utilizzeremo questo link per autorizzare il nostro account nella pagina che ci si aprirà potremo cliccare sul pulsante non ora e chiudere completamente la finestra del browser come vedi la nostra attivazione è riuscita e possiamo finalmente utilizzare la nostra copia di win optimizer chiudiamo con la x questa finestra e ci ritroveremo nella dashboard di questo software la dashboard è un eccellente quadro sinottico della situazione del nostro computer ci dice infatti nel mio caso che la cpu è impegnata al 3 per cento e che questa è l'occupazione del mio disco rigido inoltre cliccando sul pulsante analizza in pochi secondi avremo una situazione del nostro computer in termini di tracce di navigazione collegamenti non vari di servizi attivi non necessari la possibilità di ottimizzare le nostre impostazioni ed infine di svuotare il cestino tutto questo naturalmente con un solo clic sul pulsante ottimizza i dati che riferisce sono estremamente veritieri non assolutamente gonfiati come quelli di altri software ma naturalmente non finisce qui perché cliccando nel menu a sinistra sulla voce che si chiama tutti i moduli avremo a disposizione letteralmente un oceano di ottimizzazioni che è possibile fare automaticamente tramite questo programma tanto per citarne alcune potremo gestire automaticamente i nostri servizi di windows potremo configurare con pochi clic le impostazioni sulla privacy ottimizzare la nostra connessione internet ma anche eliminare definitivamente i file oppure configurare il nostro menu contestuale insomma un vero arsenale a nostra disposizione che ti incoraggio caldamente a sperimentare ma come mai non ti ho presentato prima questo programma ebbene devi sapere che questo software fino alla fine dell'anno scorso era presente nella vecchia versione e che era per di più a pagamento solo dall'inizio di quest'anno è diventato freeware ma lo ha fatto mantenendo tutte quante le caratteristiche e le funzionalità che aveva quando non lo era e qui già un grosso vantaggio tutto questo senza considerare che ha sempre ricevuto delle valutazioni molto alte da parte degli utenti che lo hanno testato e quindi un motivo in più per scaricarlo ed installarlo per la salvaguardia dei nostri pc e già qui sento salire alto e prepotente l'urlo della community che chiede ma è meglio questo software o i vari microsoft pc manager glary utilities oppure ccleaner ora premesso che ccleaner lo considero alla stregua di un malware la risposta univoca e sì è meglio questo software semplicemente perché è il più aggiornato quello che interagisce meglio con il sistema operativo dopo gli ultimi aggiornamenti e soprattutto quello più ricco di funzionalità come abbiamo appena potuto vedere e quindi il mio consiglio è di utilizzarlo senza se e senza ma e a questo punto non ci resta che passare ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per te mio caro gente che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima